E' stato appena approvato dal Consiglio regionale un piano strategico triennale per la ricerca e l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Un piano importante da oltre 1,5 miliardi di euro tra settore privato e settore pubblico. Uno step decisivo, ma esattamente cosa comporta per il territorio lombardo? Intanto diciamo che sono il doppio delle risorse che avevamo previsto negli scorsi tre anni, quindi c'è un raddoppio del piano. Questo è un piano che si rivolge principalmente alla ricerca, all'innovazione, al trasferimento tecnologico, quindi a tutte quelle invenzioni che poi vengono, come si dice, messe anche a terra, cioè che poi dopo realizzano nuovi processi produttivi e quindi possono generare volano economico, soprattutto occupazione. Quindi questo piano vedrà la prima attuazione nei primi mesi del 2022 con i primi bandi che usciranno. E' importante perché tanto è stato approvato l'unanimità, vuol dire che tutte le forze politiche hanno confermato la validità e le tematiche del piano. Naturalmente investiamo molto su temi in cui la regione Lombardia è forte e temi in cui la regione Lombardia vuole diventare forte. Quindi pensiamo a tutto il campo del life science, pensiamo alle scienze della vita, pensiamo anche alla mobilità sostenibile, quindi quando parliamo di mobilità sostenibile significa automotive, significa impresa, significa manifatturiero, significa prodotti che possono essere poi dopo realizzati sul territorio lombardo, così via via tutte quante le tematiche che poi ruoteranno intorno a questo piano e che possono rappresentare il volano di economia futura. L'8 novembre si è tenuta la quarta edizione della giornata della ricerca e i media si sono concentrate su questo evento, in particolare durante l'assegnazione del riconoscimento a Lombardia e ricerca, a Pierre Joliot, a Marcella Bonchio e a Marcos Antonietti, per il processo di creazione di energia pulita dalla fotosintesi artificiale ispirata a dei meccanismi naturali. Ma cosa comporta esattamente per la regione Lombardia oggi assegnare un tale riconoscimento? Intanto significa che la regione Lombardia lancia un premio internazionale, cioè dice ai ricercatori di tutto il mondo, individuando una tematica, quest'anno abbiamo individuato la sostenibilità ambientale, che è un tema molto attuale ma anche molto ampio. Dice qual è l'invenzione che avete realizzato, che avete pensato che può essere utile alla popolazione, al cittadino, perché ricordiamoci che noi ci basiamo sempre su premiazioni, su ricerche che riguardano direttamente l'interesse dei cittadini e abbiamo trovato, la giuria ha trovato questa importante scoperta che consiste nella, hanno replicato in laboratorio la fotosintesi, quindi la produzione di energia attraverso la biologia, le piante e i vegetali, in questo caso una delle applicazioni è la produzione di idrogeno, abbiamo idrogeno ed è un idrogeno di tipo green, abbiamo l'idrogeno grigio e l'idrogeno blu, l'idrogeno green è proprio questa innovazione. Poi cosa dice questo premio? Che assegna un milione di euro, ma almeno 700 mila euro devono essere spesi, investiti sul nostro territorio per progetti di ricerca inerenti proprio alla scoperta e quindi vuol dire che in Lombardia sperimenteremo il cosiddetto idrogeno green. Ci vorrà un po' di tempo per capire se arriverà la produzione e quant'altro, però mi sembra un aspetto molto innovativo, pensiamo ai tipi di alimentazione, ai tipi di motori nel caso dell'automotive che vanno ad idrogeno, quindi anche qui ci apprestiamo a fare un grosso sforzo di ricerca all'interno della mobilità, nel panorama della mobilità e all'interno anche dei tipi diversi di motorizzazioni e quindi su questo ci giochiamo una partita a 360 gradi. Cosa comporta invece per giovani ricercatori che magari valigia alla mano erano pronti ad andare all'estero per i motivi che conosciamo tutti, ma che invece si trovano forse un'occasione adesso davanti? Beh, intanto questo è un richiamo ai ricercatori, perché assegnare un premio vuol dire portare qui l'apice di un tema di ricerca, cioè il ricercatore principale, che poi si avvale anche di tanti collaboratori, quindi già è un rientro, un'attrazione di cervelli, quindi il premio in realtà è un'attrazione di cervelli. Poi in sé mantiene, tra virgolette, i cervelli sul nostro territorio, perché poi sui progetti di ricerca e sulle filiere cosiddette di ricerca tanti sono i ricercatori che poi collaborano a questi progetti. E abbiamo già avuto esempi di esperienze precedenti, cioè di assignazione di premi precedenti che hanno comportato magari anche degli sviluppi in seguito sul territorio? Assolutamente, anzi uno dei premi ha contribuito a ricerche particolari per combattere malattie rare e malattie cosiddette di nicchia che altrimenti non avrebbero visto investimenti per inerenti la ricerca su quello, cioè quella che viene definita a volte ricerca antieconomica perché riguarda malattie che sono in pochi casi. Quindi diciamo che è una ricerca che non era partita da quello, quindi un premio che non andava specificamente su quello ma sull'epidermolisi bollosa, in realtà poi dopo ha comportato un risultato di fatto scientifico che si è trovata una cura per due tipi di malattie, quindi su questo produce assolutamente grandi risultati. Come sta evolvendo il panorama regionale in termini di innovazione e ricerca oggigiorno? Beh, noi stiamo vivendo un periodo particolarmente positivo, perché? Perché intanto esiste un piano nazionale che investe e poi c'è il piano regionale, come abbiamo ricordato, che è un piano cospicuo, abbiamo il doppio delle risorse rispetto agli anni passati e la strategia sarà questa, innanzitutto prima avremo le risorse nazionali che arriveranno sul territorio e poi Regione Lombardia cercherà di essere complementare o cercherà di andare a prendere quelle aree che invece a livello nazionale non sono state coperte. Ecco, di fatto ci saranno grandi investimenti sul territorio e quello che dobbiamo essere capaci di fare è attrarre gli attori, cioè non basta fare un progetto di ricerca e investire, bisogna attrarre tutti gli attori. Chi sono gli attori principali nel campo della ricerca e dell'innovazione? Sono le imprese, le università e le istituzioni. Quindi questi tre soggetti insieme riescono a vincere la sfida del futuro per trovare delle invenzioni, innovazioni, invenzioni che si trasformano in innovazioni e che poi dopo generano sul territorio un beneficio diretto sul cittadino oppure un volano economico che poi dopo serve a generare occupazione. Quindi noi sappiamo che i nostri bandi a volte riescono a generare molti volumi sulla PIL Lombardo e in questo, con l'ultimo piano che abbiamo fatto, noi attendiamo almeno il 3% del PIL della regione Lombardia. Quindi quel miliardo e mezzo che investiamo in ricerca e innovazione e trasferimento tecnologico, il minimo che può generare secondo le nostre previsioni è questo. Inoltre abbiamo ormai innovazioni che sono alla portata di tutti e anche della pubblica amministrazione. Pensiamo al progetto blockchain, noi abbiamo sperimentato la possibilità di dare al cittadino uno strumento molto utile, cioè fare domande semplicemente riempiendo un modulo elettronico dal proprio cellulare o davanti a un operatore e chiediamo al cittadino di non presentare più nessuna certificazione, semplicemente di dichiarare a video, tra virgolette, tutte le caratteristiche, il reddito piuttosto che le caratteristiche che fanno sì che possa beneficiare di un contributo. Avevamo fatto un po' di tempo fa una sperimentazione su un comune sul bonus NIDI, ha funzionato molto bene, abbiamo applicato questo sistema sulla dotte scuola, ha funzionato molto bene, quindi pian piano andremo avanti, le domande che si faranno a Regione Lombardia saranno semplicemente in formato elettronico senza produrre nessuna certificazione, il nostro sistema riesce ad elaborare tutto, questo vuol dire che sgraviamo la popolazione, le imprese, i soggetti di un compito incredibile e poi questo sistema ci viene copiato, ci viene copiato dall'Europa, ci viene copiato anche dal governo per l'innovazione nella pubblica amministrazione, quindi su questo siamo molto all'avanguardia e pensiamo che il nostro territorio e i nostri cittadini possano beneficiare di queste importanti innovazioni. Siamo in un momento molto particolare dove tante aziende, tante imprese faticano ancora ad arrivare a pieno regime, alla luce di ciò quali potrebbero essere le azioni future indispensabili? Stiamo facendo un gioco di squadra, un gioco di squadra con il governo, con le università, con i rappresentanti, le associazioni di categoria delle imprese perché noi avremo un investimento molto molto importante nei prossimi mesi, nei prossimi anni che è il piano nazionale che vedrà impegnate anche le regioni come registi delle operazioni che poi dopo si svolgeranno sui territori. Sulle deleghe che riguardano il sottoscritto l'ammontare nazionale è 30 miliardi di Euro, se la Lombardia rappresenta il 22% del PIL sono presti fatti i calcoli per capire cosa potrebbe potenzialmente arrivare in regione Lombardia. Ma oltre a questo investimento di danaro ci sono anche delle riforme importanti che accompagnano questo investimento e in più c'è l'azione della regione insieme a tanti autori per rendere proficui questi investimenti. Quindi ci saranno settori che avranno una grossa mano, ci saranno settori che voleranno, però dobbiamo dire che ci saranno anche settori che cambieranno perché le crisi e anche la pandemia in questo lo è stato, portano una modificazione, portano una modificazione nei comportamenti delle persone, portano delle modificazioni economiche. Quindi cambia il comportamento delle persone, cambia anche il panorama geopolitico, pensiamo anche al tema delle materie prime che sono difficilmente recuperabili in questo periodo. Questo comporterà alcune modificazioni nel nostro modo di produrre, nel nostro sviluppo economico. Quindi di fatto siamo davanti a un periodo molto, molto positivo. Il nostro compito è quello di riuscire a equilibrare questo sviluppo a tutte le categorie delle persone e indirizzare finanziamenti dove poi possono creare maggior benessere sia sociale che economico ai nostri cittadini. A livello di occupazione, quindi di posti di lavoro, tutti questi cambiamenti, tutte queste innovazioni, quanto potrebbero mettere a rischio interi settori? I posti di lavoro sono a rischio quando si cambia se non c'è un investimento adeguato sull'orientamento e sulla formazione. Perché accanto a un settore che si spegne ce ne sono tanti che si aprono. Quindi da una parte la crisi significa cambiamento. Quindi la parola crisi è composta da due caratteristiche. Da una fase negativa che è la diminuzione di produzione in un settore a una fase positiva che è l'aumento di produzione in un altro. Noi sappiamo peraltro che, insomma ormai è acclarato e da più voci arrivano anche dal World Economic Forum, che il 65% dei ragazzi che oggi fanno la primaria e le scuole elementari faranno un lavoro che oggi non esiste. Quindi è chiaro che l'orientamento e la formazione diventano di vitale importanza ed è per questo che noi e il governo investiremo moltissimo in questo settore. Quindi oggi la persona che si occupa, che ha una certa mansione in un certo settore, domani avrà sicuramente una mansione diversa nello stesso settore o in un altro, non solo. Ma il giovane che esce dalla scuola deve trovare direttamente il contatto con l'azienda. Per fare questo finora si sono portati i giovani all'interno delle aziende con diverse operazioni come l'alternanza scuola-lavoro. Quello che abbiamo intenzione di sperimentare dal 2022 sono le aziende che entrano all'interno della scuola ed è il sistema più innovativo che esiste. Ne abbiamo parlato in diversi convegni, anche importanti a livello internazionale, quindi penso che la Regione Lombardia possa attivare questa forma di sperimentazione sulla formazione e sull'istruzione che possa garantire un orientamento adeguato e una formazione adeguata ai giovani. L'orientamento è importante perché accompagnare i ragazzi verso la scelta degli studi e del lavoro futuro è importante. Noi oggi pensiamo di accompagnare i ragazzi sulla scelta degli studi, ma dobbiamo anche far capire ai ragazzi che quegli studi implicano poi determinati lavori. Quindi l'idea di fare un orientamento anche sul lavoro ai giovani, insomma, penso che sia molto molto interessante e soprattutto utile loro. Parliamo di Brianza. Di recente lei ha definito la Villa Reale, il parco e l'autotomo di Monza una sorta di Cape Canaveral per far decolare le imprese dei giovani. Ma in che modo e in particolare con quale risorse si può riuscire ad attuare un piano di simile portata? Beh, certo che davanti a una platea fatta di venture capital, di banche, di investitori internazionali e di start-upper, cioè di nuove aziende, la prima cosa che mi è venuta da fare è vendere, tra virgolette, il parco, l'autodromo, quel comparto eccezionale che è una delle aree di principale interesse e di principale investimento di Regione Lombardia. Cosa devono fare le istituzioni? Quindi cosa dobbiamo fare noi? Noi dobbiamo preparare il terreno, cioè noi dobbiamo creare le condizioni affinché in quell'area entri l'università, dobbiamo creare dei luoghi, mettere a disposizione gli immobili per dare luoghi ai giovani per studiare, per poter anche vivere, quindi una sorta di mini campus. E poi c'è questa nuova frontiera fatta dagli acceleratori. La maggior parte degli acceleratori che funzionano oggi a livello internazionale, cioè i migliori sono privati, quindi sono a misto capitale privato o privati. E quindi proporre a una platea di investitori l'idea di poter realizzare un acceleratore, cioè un luogo in cui le piccole aziende, piccolissime aziende, le start-up, possano crescere e diventare poi medie o grandi aziende, beh, in quel comparto è un comparto assolutamente favorevole. Come è nata nella Silicon Valley, cioè se nella Silicon Valley faccio la battuta, nascevano le idee del garage, figuratevi in una villa reale.